Arrivano 17.200.000 euro per l'Emilia-Romagna per far fronte ai danni prodotti dalla seccità nel 2022. Sono 1.375 le imprese che hanno presentato domanda di indennezzo. Fra le province più colpite c'è Ravenna. Sempre per la seccità, dallo Stato sono già arrivati 10.400.000 euro con i quali si sta procedendo alle liquidazioni tramite l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura in Emilia-Romagna. Al momento sono state liquidate 893 domande per un importo totale di 8.400.000 euro. Gli uffici regionali stanno attendendo il completamento delle istrutture e dei controlli che permetteranno la concessione di altre 482 domande per un valore di ulteriori 8.800.000 euro. Poi si attenderà l'ultima rata di fondi dal Ministero. Pomodori, mais, vino, frutta e riso, le coltivazioni che hanno subito maggiormente i danni lo scorso anno. Negli ultimi 20 anni è stato calcolato che le precipitazioni sono calate del 40%. Contemporaneamente sono aumentate le temperature. Dopo le decurtazioni subite per mettere a disposizione risorse alle imprese agricole per l'alluvione, il fondo Siccità è stato finanziato con 80 milioni di euro dal governo grazie agli strumenti di crisi messi a disposizione dalla Commissione europea che hanno erogato 60 milioni di euro. Come contromisure, invece, la Regione Emilia-Romagna sta investendo su nuovi invasi e sulla depurazione delle acque refue. Allo stesso tempo, insieme all'Università, si sta cercando di migliorare l'irrigazione di precisione per evitare sprechi di risorse naturali. Altro grave problema sono le perdite nella rete di distribuzione. Infine, sono stati finanziati due progetti di riqualificazione ed efficientamento del canale Emiliano-Romagnolo.